Non solo lavorava come rivenditore di gioielli, completamente al nero e senza averne alcun titolo, ma incassava anche regolarmente il reddito di cittadinanza, questo quanto scoperto dai finanzieri della tenenza di Sansepolcro. Tutto è partito dall'attività di controllo economico del territorio, nel corso del quale le fiamme gialle sono venute a conoscenza di un privato, non un imprenditore, che commercializzava articoli di gioielleria su tutto il territorio nazionale. Gli approfondimenti poi, svolti anche con appostamenti e pedinamenti, hanno portato i finanzieri a richiedere all'autorità giudiziaria un provvedimento di accesso ai fini fiscali nei confronti dell'uomo, che risultava di fatto privo di occupazione. Quest'ultimo, infatti, per sfuggire al fisco, svolgeva l'attività imprenditoriale con un'auto non di proprietà e allo stesso tempo aveva trasferito, solo fittiziamente, la propria residenza in un altro domicilio, così da sottrarsi ad eventuali controlli fiscali e, come scoperto, in stretta sinergia con l'Inpsa, per poter richiedere il contributo del reddito di cittadinanza. Le fiamme gialle comunque sono riuscite a smascherare queste strategie evasive ed hanno trovato articoli di gioielleria per circa 15 chili, nonché un registro di contabilità e vari manoscritti riferibili all'attività svolta al nero. Il servizio si è così concluso con la segnalazione dell'uomo per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza per oltre 10 mila euro per gli anni 2019-2020, con la ricostruzione dei redditi non dichiarati per circa 150 mila euro e con la denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di riciclaggio e ricettazione. L'uomo è stato infine segnalato anche all'Inpsa per il recupero del beneficio economico sino adesso percepito.